Cresce la tensione sul progetto per l'attivazione di un inceneritore nella zona industriale in località Stracca di Casoli di Atri. L'intervento promosso da un'azienda della zona per ricavare calore bruciato dagli scarti di produzione è stato al centro di una partecipata assemblea organizzata dall'associazione che porta il nome della contrada alla presenza di residenti, associazioni ambientaliste ed esponenti politici. Nel partecipato incontro è stato evidenziato che la realizzazione della struttura potrebbe avere impatti e conseguenze negative per l'ambiente e la salute pubblica della popolazione residente e per queste motivazioni il comune di Atri ha deciso di tutelarsi affidandosi a un legale specializzato in materia per la presentazione di un eventuale ricorso. Noi siamo molto preoccupati per due motivi fondamentali. Uno perché nella prima fase, quando abbiamo letto la prima volta la relazione presentata dall'azienda sul portale della regione Abruzzo abbiamo subito evidenziato il fatto che l'azienda stessa non menzionava assolutamente il nostro territorio cioè il nostro territorio intendo tutta la zona residenziale, qui zona Stracca dove siamo una cinquantina di famiglie circa 200 abitanti e in più nessuna delle attività sia agricole, quindi aziendali agricole, presenti e neppure quelle commerciali. Il secondo punto che noi intendiamo evidenziare è il fatto che all'interno del nostro comprensorio a distanza da circa un chilometro da dove verrebbe costruito l'inceneritore c'è anche una struttura Fiora all'Occhiello, tra l'altro del comune di Atri, Rurabilandia, è una struttura che ospita ragazzi diversamente abili è una struttura sociale dove all'interno si fanno attività di distrazione agricole e così via. Un altro aspetto importante è che noi all'interno di questo contesto abitativo abbiamo realizzato anche il nostro futuro e per noi questo futuro verrebbe compromesso. L'azienda che ha proposto il progetto si dice pronta a spiegarlo e a smentire il rischio inquinamento ma nel frattempo si allarga il fronte del no all'opera. Abbiamo visto la partecipazione anche di diverse forze politiche però questo aspetto per noi è importante dal punto di vista funzionale il fatto che tutti sono sul fronte del no per noi potrebbe essere una chiave per poter sollevare in regione questa preoccupazione.